Musica Rosalba Rispo, consigliere comunale dei 5 Stelle di Parete, tra le promotrici e le protagoniste dell'iniziativa Lodevole sull'agricoltura promossa dal Movimento 5 Stelle a Parete, un tema fondamentale per la città, un tema che può garantire e favorire lo sviluppo economico della città. Da quanto ci risulta l'amministrazione comunale però sta facendo poco, anzi potremmo dire nulla su questa tematica. Grazie Mario De Michele, buonasera Campania Notizie. Sia a livello istituzionale e a livello locale possiamo dire sicuramente che l'amministrazione di Parete è completamente assente. Ricordo che per i primi due anni e mezzo l'amministrazione ha nominato un assessore esterno all'agricoltura che nulla ha fatto di concreto per gli agricoltori del posto, dopodiché è stato eliminato dall'Aggiunta, mai sostituito neanche con una delega o un consigliere e attualmente non c'è nessun riferimento istituzionale locale dell'amministrazione di Parete per quanto riguarda l'agricoltura. Quindi gli operatori locali non hanno un referente a cui presentare le proprie stanze e con cui confrontarsi. Per questo abbiamo deciso di colmare questo vuoto istituzionale chiamando i nostri portavoce alla regione e a livello nazionale come la deputata Margherita del Sesto in commissione agricoltura. Io sono convinta che questo sia essenziale ed è la dimostrazione da parte nostra di un'attività concreta per i nostri cittadini che ascoltiamo. Eppure come dicevamo prima l'agricoltura potrebbe essere il vero volano al di là di tutte le chiacchiere e gli slogan che fa la maggioranza e l'amministrazione comunale per rilanciare il territorio. Com'è possibile perché ci sembra davvero una decisione assurda e incomprensibile che non ci sia un assessore all'agricoltura a Parete? E' come dire non c'è l'arbitro quando si gioca la finale di Champions League? Esatto, è esattamente un paradosso inspiegabile se non con la risposta del disinteresse perché questa amministrazione oltre agli affari propri sostanzialmente non ha un vero amore per la comunità. Noi in consiglio comunale avevamo proposto con una mozione che tra l'altro è stata approvata di fare un mercato rionale nel centro storico proprio per ravvivare il centro storico. La nostra mozione in realtà diciamo si basava sul mercatino dell'usato però ascoltando proprio gli agricoltori sarebbe il caso anche di trasformare questa mozione invece di fare il mercatino dell'usato sicuramente fare una fiera settimanale proprio in questa piazza dove ci troviamo adesso a chilometro zero con gli operatori del settore. Questo però può accadere soltanto nel momento in cui chi decide chi è in giunta ascolta i propri cittadini e quindi mette in opera poi queste stanze e questo non avviene.